Buonasera, benvenuti a otto e mezzo, buonasera, bentornato Alessandro Sallusti, direttore del giornale, buonasera, bentornato Massimo Giannini, direttore di Radio Capital editorialista di Repubblica, buonasera, bentornato Stefano Massini, scrittore, e buonasera, ben arrivato, Lorenzo Donnoli, portavoce nazionale del Movimento delle Sardine, nativo di Ferrara. Allora, Salvini, avete sentito che fa il martire sulla vicenda del Gregoretti e si dice pronto ad andare in prigione per la libertà, ma ordina ai suoi senatori di votare perché il processo si faccia, infatti i suoi senatori insieme agli altri della destra hanno votato il sì al processo. Ma fino a che punto va preso sul serio il leader della Lega? Subito dopo la pubblicità. Alessandro Sallusti, tu hai capito se Salvini sul caso della nave Gregoretti vuole essere processato oppure no? Perché oggi nella giunta per le immunità i suoi senatori hanno votato a favore del processo perché appunto Salvini ha detto che è pronto ad andare in prigione per la libertà e vuole essere processato. Vuole essere processato davvero? No, io penso che nessun essere umano vorrebbe essere processato e quindi neppure Matteo Salvini. Credo che Salvini abbia capito una cosa, che quell'autorizzazione a procedere e quindi a essere processato sarebbe arrivata comunque, ma sarebbe arrivata nei tempi e nei modi che avrebbero deciso i suoi rivali, il PD e i 5 Stelle, cioè dopo l'elezione in Emilia e con un voto politico contro di lui. E quindi ha deciso di decidere invece lui, di prendere in mano la situazione e decidere lui tempi e modi. Quindi i tempi sono immediati e i modi sono quello dell'autodenuncia, dell'autoprocessarsi per portare il livello da giudiziario a politico. Sì, decisamente politico Massimo Giannini. Salvini si dice appunto pronto ad andare in galera e anche di scrivere le sue prigioni come Silvio Pellico ha detto. Il PD dice che è una buffonata, Salvini invece va preso sul serio? Al netto, diciamo così, di questa sortita da martire della libertà, Salvini non è né Solgenizzi né uno dei fratelli Rosselli, nulla a che vedere. Però togliamo questo aspetto che è un po' grottesco ma dà la misura della partita in palio. A me sembra che questa sia l'ultima mano di poker prima del voto alle elezioni domenica in Emilia Romagna. Perché? Perché il PD e il Movimento 5 Stelle hanno il punto in mano ma decidono di ritirarsi. Perché non gli conviene dal punto di vista politico elettorale? Cioè non vogliono dare a Salvini un'arma con la quale lui può forzare fino a domenica prossima e convincere gli elettori che lui si sta battendo per la libertà. Salvini per contro capisce che la posta in palio è talmente alta che fa all in, cioè io mi gioco tutto, compreso il fatto che dico che mi voglio far processare. L'aveva detto già in occasione della nave 18 se vi ricordate. Salvo poi che l'avvocato Buongiorno l'ha richiamato e gli ha detto guarda non ti conviene farti processare perché c'è caso che ti condannino. Quindi io credo che la sua scommessa, ivi compresa questa forzatura sul mi faccio processare, sia finalizzata a prendersi tutto il tavolo. Il tavolo è il governo del paese perché se lui vince in Emilia Romagna lui è convinto e forse non ha tutti i torti che l'attuale quadro politico venga talmente terremotato che la sua vicenda, la nave Gregoretti, passa non in secondo ma in quindicesimo piano e quindi gioca tutte le sue carte così, come un giocatore di poker per l'appunto. È d'accordo Stefano Massini, la interpello anche da scrittore, letterato, come Salvini cita Guareschi anche e dice per arrivare alla libertà bisogna essere pronti a passare per la prigione e io sono pronto. È una citazione pertinente? Guardi, intanto direi, la prima considerazione che farei è che viviamo nell'epoca della politica fatta tutta a suon di tweet e di post, ragione per cui tutti gli elementi, tutti i parametri si sono ribaltati. Un tempo se un politico fosse stato sull'orlo di andare in galera sarebbe stato preso a pomodori marci per strada. Oggi paradossalmente dici che poteste andare in galera e ci sta che tu vinca le elezioni su questo. È una delle implicazioni e delle conseguenze della politica come la vediamo oggi. Poi la cosa interessante mi sembra Guareschi, ma mi sembra davvero interessante, paradossale, perché ci sarebbero due cose da dire su Guareschi. La prima è questa. Guareschi ha scritto dei romanzi che tutti conosciamo, Peppone, Don Camillo, alla base dei quali c'era fondamentalmente un assunto di partenza, che era che tu puoi essere di opposte posizioni politiche, comunista e reazionario, però fondamentalmente fra Guareschi e i suoi personaggi c'era un'intesa, che era quella per cui sotto sotto si riconoscevano la lealtà reciproca. Per cui in più momenti, momenti cardini, momenti più belli forse dei romanzi di Guareschi, si va al di là della politica e si dice tu mi sei avversario, però dal punto di vista umano io ti riconosco come interlocutore, è l'esatto opposto di quello che fa Salvini e quindi mi sembra che Guareschi sia meglio che lo lasci stare. Poi c'è un altro elemento fondamentale da dire a mio avviso. Non è tanto d'accordo Sallusti, poi lo sentiamo. C'è un altro elemento a mio avviso da far presente che è questo. Ho pensato una cosa, io ho 44 anni, ho pensato che quando io ero un ragazzo, quando andavo alle scuole medie o al liceo, mi ricordo un'epoca, che Massimo si ricorda bene, credo, e Sallusti anche, tu non so, mi ricordo un'epoca nella quale, penso ai miei parenti, gli amici di famiglia, coloro che si professavano a destra erano coloro che di solito facevano, usavano il tipo di linguaggio più freddo, algido e in qualche modo conservatore, no? Non a caso conservatore. Mentre la sinistra era quella che portava l'elemento incendiario, l'elemento destabilizzante, l'elemento addirittura la, potremmo dire, la variabile impazzita. Ecco oggi è tutto ribaltato. Fino a quando la sinistra non recupererà quell'elemento di potenziale anarchia positiva, rimarrà come quella che getta l'acqua sul fuoco e quindi paradossalmente, e chiudo il cerchio, nella politica della comunicazione vince la destra, vince quella che si atteggia, sottolineo, si atteggia ad eversiva. Ecco, e vincono le sardine, mi viene da dire Lorenzo Donnoli, no? Lei tra l'altro è portavoce nazionale delle sardine, perché voi siete un po' come sono anarchici positivi. Secondo lei Salvini va processato? Sì, assolutamente, come ogni cittadino dovrebbe essere processato, però dico una cosa, noi sardine siamo per la salvaguardia delle istituzioni, quindi chi ha sbagliato per me in questi giorni è stata soprattutto la Presidente del Senato Casellati, che sarebbe dovuta rimanere neutrale e invece con questa forzatura ha fatto un favore a Salvini Martire, che è un po' questa follia di propaganda che strumentalizza perfino le istituzioni ai fini elettorali. Ora nel merito io penso che chi si macchia di crudeltà, se è un balordo per forza, debba essere punito per questo, ovviamente. Perché la nave Gregoretti, ricordiamolo, è una nave italiana, non è una nave ONG. Va bene, ma Sallusti su cosa non sei d'accordo, che ti vedo in profondo disaccordo? Su tutte e due le cose che ho sentito, parto dall'ultima, non è la Casellati che ha forzato i regolamenti del Senato. I regolamenti del Senato dicevano che il voto su Salvini doveva avvenire entro sabato, addirittura. Poi si poteva giocare su lunedì, cioè su oggi, perché è il festivo, si poteva discutere. Quindi erano il PD e i 5 Stelle che volevano forzare i regolamenti del Senato e la Casellati gli ha detto, ragazzi, non c'è nulla da forzare. Il regolamento dice che bisogna votare entro lunedì, votate entro lunedì e mettiamo fine, votate quello che volete e mettiamo fine a sta pagliacciata. Su Guareschi, io penso che non è Salvini-Guareschi che ha tradito Peppone, come ho sentito, perché se c'è uno che ha tradito quel patto di lealtà che deve esistere tra rivali è Di Maio, che solo un anno fa sul caso Diciotti aveva fatto scudo col suo corpo a Salvini dicendo è una decisione politica, giù le mani da Salvini, non si processa Salvini e che non essendo più Salvini suo alleato, addirittura essendo avversario, un anno dopo tradisce quella lealtà e dice processate Salvini, processate Salvini. Quindi quello che ha tradito è Di Maio, non è Salvini. Allora Giannini, qui hanno tradito tutti in realtà, tutti tradiscono tutti. Ecco ma tu hai detto prima che Salvini si sta giocando tutto come una mano di poker fondamentale, quindi sul voto in Emilia Romagna influisce di più il Salvini martire o le sardine in piazza? Questo lo scopriremo domenica sera, sarà straordinariamente interessante vedere quale delle due cose ha influito di più. Sicuramente io penso che l'elemento nuovo di questa fase politica, al di là di quello che sarà il risultato e quindi di quanto peserà davvero il contributo delle sardine, è stato questo movimento che è nato nel giro di un mese e mezzo dal nulla, semplicemente attraverso un passaparola digitale e se pensiamo da allora che cosa è successo, 93 piazze che si sono succedute, poi man mano sono cresciute, sono arrivati a 200, persino all'estero, la piazza di ieri a Bologna era qualcosa di stupefacente in un paese che ormai le piazze le frequentava assai poco, essendo una piazza molto pacifica, al di là poi del fatto che si condivida o meno il messaggio che le sardine mandano, al di là del fatto che le si può imputare, a mio avviso ingiustamente, perché non è un partito, gli si chiede il programma, che cosa proponete, ma che cosa devono proporre, sono nati un mese e mezzo fa, qui ci sono partiti che esistono da 25 anni che non propongono niente, adesso lo pretendiamo da 4 ragazzi di 31 anni che ci diano un programma di governo, siamo seri, dopodiché ecco, basta, non basta, non lo so, quello che so per certo è che è un bel deposito di democrazia, a disposizione di chi la vuole non usare, ma far fiorire ulteriormente, in questo senso c'è anche una parte di responsabilità a loro, saranno prima o poi chiamati a decidere se vogliono seguire un percorso politico a tutto tondo, oppure se vogliono provare a fare soltanto una forza che faccia moral suasion o pressione politica, da questo punto di vista i precedenti dei girotondi e del popolo Iola non hanno portato grandi risultati, quindi sarà una scelta molto difficile da fare, non ho suggerimenti al contrario di quello che fanno tutti, che gli consigliano, fate questo, fate quello, statevi zitti, lasciateli fare, sono pacifici, sono una bella piazza e godiamocela, si dice sempre che i giovani sono disinteressati, ormai se ne fregano, ecco, voi Lorenzo avete portato in piazza anche tantissimi giovani, forse soprattutto i giovani, ecco, dopo la piazza di ieri di Bologna, quali sono le aspettative per il voto in Emilia Romagna e se in Emilia Romagna Bonaccini dovesse perdere è anche la fine delle sardine. In serata la Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, ha detto, eh, io non mi sono mai potuta permettere un palco come quello delle sardine ieri e comunque in Emilia Romagna la destra può vincere, dice la Meloni, e la sinistra è molto nervosa. Lei che tra l'altro è di Ferrara, diciamo, natio di Ferrara e vive a Bologna, dopo che è stato spesso all'estero, che previsioni facciamo? Allora, intanto partiamo dal risultato. Secondo me la cosa più importante è che noi abbiamo riattivato la voglia di partecipare, la voglia di dire la propria. Abbiamo visto come dal 2006 alle comunali di Rovigo, all'anno scorso a Verbagna, ci sono state elezioni locali decise per una manciata di voti, ma proprio, secondo me, di una o due mani o tre mani. Quindi io credo che già far capire, far trasmettere in giro per l'Italia questa voglia di dire la propria e dare voce a tutti sia già fortissimo. Quindi il fatto di invitare le persone a non disertare le urne è già un enorme risultato se l'affluenza sarà altissima come immaginiamo. E questo può cambiare il risultato, un risultato che sembrava già scritto, in cui, cioè scritto come? Scritto così, cioè una vittoria di Salvini doveva essere la marcia trionfale dell'uomo senza proposte, capace solo di alimentare l'odio all'opposizione al governo che fosse e della sua candidata di un'ignoranza abissale proposta alla guida della regione, cioè alla guida della regione più sviluppata d'Italia, che è un modello in Europa e nel mondo di sviluppo. Quindi qualcosa di assurdo, non so se... Le posso chiedere, quanti soldi avete raccolto con il vostro fundraising? Sì, con 70 mila, ma di cui 50 mila c'è l'obiettivo nell'arco delle prime 24 ore. Quindi se non avete raccolto tanti soldi... Eh, voglio dire, ecco, su questo mi ero scordato questo delirio della Meloni. solo la Lega, la grande alleata di Fratelli d'Italia, alle regionali in Abruzzo ha speso 164 mila euro solo per Facebook. Cioè, l'ho detto anche l'altro giorno, se avessi 164 mila euro, no, 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 non ho una lira, ma se avessi 164 mila euro da spendere e decidessi di spendere in Abruzzo, ci sono fior fior di associazioni a cui darli. Quindi, insomma... Va bene. Ma sì, nel... E poi voglio dire solo questa cosa, cioè che oggi la Salvini era... Mentre la taga dà, Salvini, abbiamo sentito comiziare da quelli di San Lazzaro di Savena dicendo vincerà o vincerò, secondo me perderà, perderà, sono abbastanza convinto, parlava da San Lazzaro di Savena dicendo qui noi prenderemo chissà quanti voti. Allora, io non so se andrà come alle amministrative, porto il caso di San Lazzaro di Savena perché è un caso utile, secondo me, anche agli italiani in generale a capire cos'è l'Emilia Romagna. La sindaca è una ragazza giovane, una donna giovane, Isabella Conti, molto in gamba, fervente ambientalista che si è battuta contro i costruttori e che ha istituito, ha creato il primo esperimento italiano di asilinido gratis in un comune, rieletta con l'82% dei voti il record italiano. Quindi questa è l'Italia, cioè questa è l'Emilia Romagna, è quel tipo di Italia che noi prezioniamo ad avere magari fra qualche anno un governatore agli arresti come è successo in Lombardia e in Veneto che non è il nostro obiettivo. Non è il vostro obiettivo. Massini, allora, le sardine potranno avere, continuare ad avere successo e hanno deciso di chiudere questi mesi di campagna elettorale, loro non sono un partito, ma insomma diciamo del campagna elettorale dei vari candidati, degli altri, al papete dove quest'estate ha imperversato Salvini. È una buona idea? Ma guardi, io quello che le posso dire è questo, mentre parlava lui adesso la cosa che ha detto sull'Abruzzo, mi ha fatto venire in mente che forse in questo c'è qualcosa di molto chiaro, cioè loro hanno speso dei soldi per realizzare un palco, cioè per realizzare qualcosa che è andato in una piazza dove persone reali in carne e ossa, con il loro sudore, con le loro mani, i loro braccia, erano lì. Qualcun altro invece ha speso dei soldi per fare 164 per fare la campagna elettorale su Facebook. Allora, quello che posso dire io è semplicemente questo. È disperato Sallusti, Massini. Beh, è disperato, Sallusti mi dispiace se è disperato, io dico solo che c'è dietro il vocabolario Devoto Oli, vedo. Probabilmente se uno aprisse il Devoto Oli non c'è ancora, Sallusti, la parola salvinismo. Mi domando cosa sarà fra alcuni anni la parola salvinismo. A mio avviso indicherà, sostantivo maschile singolare, quel momento in cui anche in Italia si è dovuto prendere atto di una politica aggressiva fatta principalmente sui social. Le sardine sono l'esatto opposto. Sono qualcosa che invece va nelle piazze e che non conta sui like virtuali di qualcuno che si nasconde dietro un nickname oppure un nome inventato che non esiste e fa la politica attraverso i social e i post e i tweet, ma la fa andando in piazza mettendoci la faccia. È qualcosa di eroico secondo me nell'era dei falsi indirizzi e delle furbate sui social. È il mio punto di vista, se lei scuote la testa sicuramente me ne frega meno che meno, però quello che le posso dire è che credo che sinceramente siamo davanti a due idee diverse di come concepire la politica. Sallusti. Guarda, lei sbaglia a scambiami per l'avvocato di Salvini. Tra l'altro Salvini ha fatto numerose critiche in passato e gliene faccio nel presente. Però le Sardine ci stanno dicendo che per fermare Salvini andranno a votare, immagino, suppongo, andranno a votare il candidato del PD. Il quale PD e il quale candidato del PD spendono sui social, in Emilia, in Abruzzo, dovunque si voti, esattamente gli stessi soldi che spendono la Meloni e Salvini. Quindi dire cattivi quelli di destra che spendono i soldi invece di darli ai poveri. Esattamente, il PD, andiamo a vedere, se vuole, adesso non l'ho sottomano, ma sono usciti i dati di recente, i politici e i partiti spendono più o meno gli stessi soldi sui social. Quindi non è dirimente, non è che la Meloni è cattiva e Zingaretti è bravo. Tutti e due cercano di aggredire i social e siccome aggredire i social costa, spendono dei soldi. Dopodiché, all'amico Sardina, volevo ricordare due cose. Uno che è l'ultimo che, alla vigilia delle elezioni, si era detto sicuro di smacchiare il giaguaro, questa fu la frase che disse Bersani nei confronti di Berlusconi, non è finito benissimo. E comunque, volevo dirle che fino ad oggi, da domani sarà diverso, ma fino ad oggi, più alta è l'affluenza, maggiori sono le possibilità di vittorio del centrodestra. Perché è vero che voi, Sardini, porterete più elettori di sinistra alle urne, ma proprio per questo più elettori di destra andranno alle urne per contrastare voi. Quindi, io sarei cauto a fare delle previsioni. Dopodiché, auguri, non è che sto dicendo il contrario. Allora, ma Sardini, Donnelli e poi... Dunque, altro partito negli ultimi vent'anni? Sui social? Quella di Sardini è più efficace. Sardini, che evidentemente ha saputo fare un uso della novità dei social più proficuo rispetto a quello di tutti gli altri. Quindi non ho alcun problema a dire questo. Lo reputo un uso aggressivo, eticamente scorretto e politicamente deplorevole. Ma non sono venuto qua a dire che quella sia una cosa profondamente sbagliata. Dico soltanto che è lontana dal mio modo di vedere e che a mio vedere una piazza come la loro è più umana e posso dirlo più politica rispetto a qualcuno che usa un nome falso e posta magari anche cose false sui social. Questo è quello che penso, se le piace bene altrimenti me le faccio una ragione. Se posso dire proprio al volo c'è solo una cosa però da aggiungere. Tutto quello che ha detto Massini è verissimo. Salvini però ha una qualità in più. Bisogna riconoscergliela purtroppo. Lui è stato molto abile ad usare anche con notevole dispendio di danaro la leva digitale e quindi la bestia di Morisi è stata una componente fondamentale del suo successo soprattutto di quest'ultimo anno e mezzo. Però non dobbiamo dimenticare quello che Salvini ha fatto in questi cinque anni quando ha preso la Lega al 4% nel 2013 e l'ha portata oltre il 30%. Insieme a questo e sotto questo profilo concordo persino con Sallusti sulla cautela abbattuto palmo palmo l'Emilia Romagna da tre mesi. Ma palmo palmo vuol dire che andava nelle frazioni da 40 persone dove andava al bar di paese. Da questo punto di vista la sua capacità di stare sul territorio con argomenti che io non condivido con toni che trovo spesso inaccettabili però è un altro dato oggettivo sul quale purtroppo la sinistra istituzionale non è stata in grado di rispondere. Le Sardine sì e per questo loro sono il fatto nuovo di questa tornata elettorale. Mi invito a riportare un attimo l'analisi all'Emilia Romagna perché poi in generale e in generale le persone vogliono risposta ai loro problemi concreti reali quotidiani. Da una parte abbiamo un governatore che è stato quasi non eletto di fatto come si è sentito lui in questi cinque anni perché era stato votato da meno del 50% del 37% del corpo elettorale. Record negativo della storia italiana di affluenza non ce l'ho andato manco io, faccio me la colpa. Abbiamo visto quindi una giunta in generale che ha lavorato per allargare i diritti, per allargare le opportunità di accesso al lavoro, alla sanità, all'eccellenza italiana, al turismo. Dall'altra parte abbiamo il nulla cosmico di proposte e questo è il paragone perfetto a livello di proposte pratiche concrete alla sua campagna elettorale. Lui è andato in giro per l'Emilia Romagna a fare qualche passaggettina natalizia, a fare qualche bagno di folla in cui si è fatto semplicemente fare delle foto insieme alle persone. Quando una persona ferma me o Mattia, ci chiede, Mattia Santori, ci chiedono, non solo ci chiedono una foto, ci danno le loro proposte di legge. Donoli però non risponde un aspetto fondamentale. La campagna elettorale di Salvini in Emilia Romagna non ha niente a che vedere con l'Emilia Romagna. Salvini sta facendo una campagna elettorale per le politiche nazionali, come se queste fossero elezioni politiche nazionali. Ma senza un'idea è difficile vincere le elezioni, senza una proposta concreta. Il medium è il messaggio, è lui la proposta, è lui, legge, ordine, via i migranti. Salusti! L'unica cosa che conta è quello. Infatti se si vota sulla base del buon governo dell'Emilia non c'è partita, Salvini prende una trambata epocale. Il problema è se passa invece l'altro messaggio. Ma qualcuno si deve chiedere, qualcuno si continua a dire questa Emilia modello pazzesco, tutto va bene, ma se fosse così bisogna farsi la domanda. Perché cinque anni fa il centrodestra in Emilia era, se non ricordo male, al 23% e oggi, secondo gli ultimi sondaggi di cui si può parlare, cioè quelli di dieci giorni fa, è al 44%. È stato tutto così splendido e tutto funziona benissimo. O gli emiliani sono ubriachi di Lambrusco, oppure non è vero. Io propendo per la seconda ipotesi. Ecco, non è che qui avete detto che è tutto un paradiso. No, almeno una civice è questo, nel senso che anche lì sul lavoro, sul turismo, sui diritti, su tutto, sull'ambiente ci sarà da migliorare e si migliorerà, ma partendo da proposte concrete, da competenze concrete. Poi ovvio, io non nego che nella democrazia, normale ci sia un momento in cui ovunque, anche governi bene una coalizione centrodestra di centrosinistra, è normale che a un certo punto si arrivi ad una normale richiesta di alternanza da parte dei cittadini. Ma nel momento in cui da una parte c'è un buon governo, da una parte c'è il nulla cosmico, è difficile che i cittadini vadano da quella parte lì. Massini evidentemente non è tanto un nulla cosmico se tanti italiani votano per la lega di Salvini. Salvini dice peraltro di voi in Sardina che il vostro vero programma è quello dell'odio per Salvini. Ma tutto è proiettato su una scala che ormai è al di là del contingente, no? Cioè nel senso sempre c'è il diritto e il bisogno di schierarsi su una battaglia più alta che è quella a favore o contro qualcuno. Io personalmente mi sento di dire un po' anche, non voglio essere volgare, ma che palle perché sono anni che in Italia votiamo soltanto contro qualcuno o a favore di qualcosa e manca mai una volta ci fosse l'attenzione alle singole cose di cui parliamo, ai singoli programmi, ai singoli progetti, ai singoli candidati nei voti amministrativi. è un continuo sentire che poi alla fine si impasta tutto, no? Nella grande semplificazione succede che tutto diventa una battaglia di altro livello. Rapidissimo Donolis, come... dia una replica sul fatto che Sallussi scrive che il vostro vero programma è solo l'odio contro Salvini. Delirante, insomma invece siamo semplicemente... è brutta questa cosa di pro e contro, concordo, non si fa così politica secondo me. Comunque noi siamo per una visione di società più aperta, più multiculturale, più inclusiva, ma non solo a livello di accoglienza, per i diritti di tutti, cioè che parta proprio dagli ultimi, proprio quei senza tetto, proprio gli operai che il decreto Salvini e gli immigranti che scappano da guerra e regimi, spesso nostri alleati, distrugge. Ma c'è già la carica sul PD. No, ci vuole un governo che si occupi degli ultimi, delle persone più in difficoltà. Qual è la proposta politica? Il PD ha il governo. Ma guarda, perché parlare di antifascismo, parlare di disuguaglianze, parlare di diritti, parlare di... Ci parla il PD, cioè tutti i giorni ci parla di antifascismo. Antifascismo, qual è la vostra novità? Qual è la vostra novità? Beh, noi studieremo un programma, siamo in campo da 70 giorni, un movimento popolare spontaneo, ne avremo... Ma certo, dovremmo prima confrontarci, siamo due milioni di persone, non siamo come la Lega o i partiti lideristici che l'opinione di... Non dovete portare il programma di governo, c'è poco da fare, vi chiedono il programma di governo. Ma lo avranno! Va bene, allora buona fortuna. Se non portate quello non avete diritto di andare in piazza. Perché sarà un lavoro lungo e complicato. No, 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 in piazza c'è tutto il diritto di andare in piazza. Sì, è un abbattuto Alessandro, certo, certo. Allora, adesso ci spostiamo a Davos, lei ha detto la parola disuguaglianze, i potenti del mondo si riuniscono da oggi a Davos, uno dei temi saranno le crescenti disuguaglianze e uno dei temi è naturalmente anche la tutela dell'ambiente. Intanto hanno cominciato ad arrivarci i partecipanti in treno. Pochi secondi di pubblicità, poi guardate il punto di Paolo Pagliaro. Sembra un ritorno al passato e invece è una notizia che ci parla di futuro. Questa mattina alle 11 è arrivato al binario 6 della stazione di Bruxelles-Midi il primo treno notturno da Vienna, denominato Nightjet. Il convoglio della compagnia austriaca EBB è giunto a destinazione dopo circa 14 ore di viaggio e 15 fermate, tra le quali Linz, Norimberga, Francoforte e Liegi. Da 16 anni in Belgio non operavano più treni notturni. Nel 2003, infatti, le ferrovie statali avevano annunciato la fine del servizio a causa della concorrenza delle compagnie aeree low cost. Adesso tutto sembra improvvisamente cambiato. Primo perché anche sui treni il prezzo del biglietto è diventato competitivo con quelli di Ryanair o di EasyJet. Da Vienna a Bruxelles, per dire, c'è chi si è la cavata con 30 euro. Ma la seconda ragione, su cui si soffermano oggi i media belgi, è che il collegamento ferroviario ha generato emissioni di CO2 10 volte inferiori a quelle che per lo stesso percorso avrebbe causato un aereo. 40 chili contro 410. Un risparmio analogo si ottiene sulla tratta Vienna-Milano e Vienna-Roma, già attive da tempo. Il ritorno dei treni letto è segnalato anche in Gran Bretagna, tra Londra e la Scozia, e anche in questo caso per ragioni ecologiche. Il sito Eonews, che segnala l'avanzata dei trasporti green, parla di effetto Greta. La ragazza che ha sensibilizzato il mondo sui rischi legati al cambiamento climatico, deve aver convinto anche gli organizzatori del World Economic Forum, che comincia oggi a Davos. Gli ospiti, molti dei quali sono tra le persone più ricche del pianeta, sono stati invitati a usare il treno invece dei jet privati e, una volta arrivati, a spostarsi a piedi invece che in macchina. Poiché le strade sono ghiacciate, c'è stata qualche slogatura. Allora, siamo in chiusura. Stefano Massini, ricordo che lei è in libreria con un nuovo libro che si intitola Eichmann, dove inizia la notte, un dialogo fra Hannah Arendt e Adolf Eichmann, quindi criminale nazista, la scrittrice Hannah Arendt, pubblicato da Fandango. Perché questo libro adesso? È un po' collegato a quello che abbiamo detto fino ad ora. Come si forma facilmente il male, cioè come diventa concreto in modo semplice e come si passa velocemente dalle parole e quindi potremmo dire anche dai social, alle conseguenze delle parole che possono voler dire violenza e morte per un sacco di gente. Allora, Eichmann, dove inizia la notte, pubblicato da Fandango, il nuovo libro di Stefano Massini. Grazie Massini, grazie Massimo Giannini, grazie Donnoli, grazie Alessandro Sallusti, grazie spettatrici e spettatori. Vi lascio Alicia Colò al suo programma Eden, un pianeta da salvare che comincerà con il futuro dei ghiacciai. E noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo. Arrivederci.